Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici telespettatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salute e Prevenzione. Oggi parliamo del nostro cuore, è sempre bello parlare di cuore, da sotto tutti i punti di vista. Il cuore è l'organo vitale più importante del nostro corpo, per questo motivo è fondamentale prendersene cura. Anche perché diverse sono le patologie che possono colpire il muscolo cardiaco, così come anche altre aree dell'apparato cardiocircolatorio, causando problemi e alterando la qualità di vita. Allora, vi presento subito la nostra ospite, grazie intanto per essere qui con noi, la dottoressa Mimma Cloro, cardiologa e in forza come dirigente medico nella Unità Operativa di Cardiologia dell'Annunziata di Cosenza. Grazie dottoressa Cloro. Grazie a lei, buonasera. Allora, abbiamo detto il cuore, quindi organo vitale del nostro corpo, ma vogliamo ricordare, giusto per entrare in argomento, la funzione che svolge il nostro cuore? In termini molto semplici, il cuore è la pompa da cui praticamente si dipartono tutte le forze energetiche che servono poi alla sopravvivenza del nostro organismo. È un organo molto complesso, non è solo un muscolo, ha anche delle funzioni endocrine, produce degli ormoni e attraverso la sua, diciamo, costante attività contrattile che permette quindi lo spostamento di sangue che contiene tutti i nutrimenti per distribuirli poi in periferia. È vero che con il passare del tempo, sempre per quanto riguarda appunto il cuore, quindi con l'avanzare dell'età, soprattutto nel caso in cui si adottino degli stili di vita non proprio corretti, aumentano i rischi di patologie cardiache? Sicuramente sì, di per sé l'età è un fattore di rischio per le malattie cardiache. È chiaro che con l'avanzare degli anni tutti gli organi, compreso il cuore, subiscono un processo di involuzione. Quindi c'è ad esempio la comparsa di fibrosi che sostituisce il muscolo vitale e che poi col passare degli anni, ad esempio nei pazienti molto anziani, può provocare delle vere e proprie patologie cardiache. Certo, certo. Poi ci sono delle patologie che sono tra le più comuni, più frequenti, no? Mi riferisco all'ipertensione, poi insomma lei aggiungerà delle altre, non so mi viene in mente. Ah, no no, prima però vorrei che ci soffermassimo un po', citavo prima appunto questi cattivi stili di vita, no? Che possono essere l'assunzione di alcol, piuttosto che il fumo, piuttosto che la sedentarietà, no? Sì, ho ormai dimostrato che esistono una serie di fattori che se non vengono rimossi possono provocare dei danni poi irreversibili al cuore. Tra questi fattori sicuramente riveste particolare importanza, soprattutto per la sua diffusione nella popolazione generale, è l'ipertensione, che non è altro che un aumento dei valori pressori al di sopra di alcuni, al di sopra di un valore che noi abbiamo definito normale. Ma vogliamo ricordare questo valore e le chiedo anche, cambiano i valori pressori in base anche all'età? Sicuramente sì, sicuramente sì perché ad esempio con l'età adulta, con l'età adulta c'è una modificazione dei valori pressori. Diciamo dai 20 ai 40 i valori pressori quali devono essere? Allora il valore ideale è 120-80 a questa età, poi con l'avanzare degli anni, quando ad esempio inizia la sclerosi dell'apparato cardiovascolare, i vasi diventano molto più rigidi, si osserva un progressivo aumento dei valori pressori. Ad ogni modo il valore cut off, limite, che per noi è considerato accettato, rimane sempre 140-90. Quindi al di sopra di questi valori definiamo il soggetto iperteso. Al di sotto poi di questi valori c'è tutta una serie di valori che poi caratterizzano la cosiddetta pressione normale e alta, poi c'è la pressione ottimale, poi c'è la pressione, diciamo, e poi ci sono i valori che caratterizzano l'ipotensione. Ogni quanto andrebbero rilevati i valori pressori? Perché ci sono persone che sono un po' quasi ossessionati, no? Cioè quotidianamente misurano la pressione, anche perché lo sappiamo, ormai quasi in tutte le case c'è un apparecchietto per misurare la pressione. Ma in realtà non c'è un, diciamo, un limite. Teoricamente un paziente iperteso può controllarla anche tutte le mattine se ha a disposizione l'apparecchio a domicilio. Che sono affidabili, no, dottoressa? Sono affidabili, soprattutto adesso vi sono degli apparecchi, degli stingomanometri in commercio che sono elettronici. È preferibile utilizzare quelli con il manicotto al braccio, che oltre a misurare la pressione sistolica e la pressione diastolica, consentono anche la misurazione della frequenza cardiaca. Sono molto affidabili, sì. Sono molto affidabili. Certo, insomma, ricorderete, amici, insomma, il vecchio metodo, poi c'è sempre il bracciale con il fonendo, che quella è sempre una metodica, insomma, più datata, però lì, insomma, non siamo proprio precisi così come le macchinette, però andiamo sul sicuro. Sì, in realtà l'apparecchio di riferimento per noi era lo stingomanometro con la colonnina di mercurio. Adesso il mercurio non viene più utilizzato per gli effetti tossici che noi già sappiamo, quindi sono venuti, diciamo, vengono utilizzati nella pratica clinica altri tipi di apparecchio, ma che sono altrettanto precisi ed affidabili. Quindi, diciamo, in situazioni, le diceva, un soggetto iperteso può, avendo a disposizione questi apparecchi, anche quotidianamente misurare la pressione. Diversamente in una situazione di normalità... Di normalità? Allora, intanto la pressione andrebbe misurata in chi ha dei sintomi, ad esempio la classica cefalea, un senso di peso sul capo. Può essere un segnale? Sì, a volte l'ipertensione può manifestarsi in questo modo. Devo dire che nella maggior parte delle volte è completamente asintomatica. La maggior parte dei pazienti si accorgono di avere la pressione alta, perché così per gioco, per vari motivi, vanno a misurare la pressione. E quindi si accorgono di avere dei valori pressori elevati. Ad ogni modo ritengo che la pressione poi debba essere controllata con una certa costanza, soprattutto in quei pazienti che hanno familiarità per ipertensione. Allora, la interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata per noi. Buonasera, chi ha il telefono? Buonasera, sono Tonino Tocci da Cosenza. Buonasera Tonino. Prego. Senta, io volevo disturbarvi un attimino, se è possibile, riguardo proprio alla sanità nostra italiana, in particolare a Bresa, in particolare ancora a Cosentina. Prego. È caduta la linea? Sono Tonino Tocci, buonasera. Sì, abbiamo sentito perfettamente. Stavamo aspettando la domanda. Ah, la domanda è, veramente non è proprio una domanda più che altra, è una denuncia. Prima io ho avuto due impatti. Sì. Un mese fa, più o meno, un mese e mezzo fa, il mio medico mi aveva ordinato di fare una prova sotto sforzo. Sì. Sono andata a prenotare, non sento io, però, ecco, sono andata a prenotare e ci volevo nove mesi e mezzo. Stiamo parlando di una prova sotto sforzo di una persona che ha avuto due impatti. Nove mesi e mezzo. Vabbè. Io vi faccio presente che vivo di una pensione di 840 euro al mese. sicché il tempo si prolungava, mi sono fatto ritorno da una mia sorella e me la sono andata per fare il pagamento. 150 euro. Vabbè. Non sono riuscito a farlo. Il problema qual è? Mi è sotto questa mattina. Io sono anche diabetico, ho finito le strisce e gli aghi. Io c'è il piano terapeutico dove mi hanno ordinato 75 strisce e 75 aghi per un periodo di tre mesi. Anche se la dottoressa, sempre della struttura, la dottoressa... Vabbè, non facciamo nome, diciamo giusto la... Vabbè. La dottoressa mi ha dato questa di fare, di misurare la lucemia tutti i giorni e due volte al mese, a metà mese e a fine mese, sei volte al giorno. In pratica io consumo 42 aghi al mese, per tre mesi sono 126, me ne danno 75. Fino ad adesso io ho... Non ne facciamo no, non ho affatto no. Sì. In pratica... Mi sfugge un po' il discorso. Intanto io la interrompo, lei ci pensa a quello che stava dicendo. Allora, qua sfonda una porta aperta, no dottoressa, perché purtroppo come situazioni come quella del signor Tonino, ce ne sono tante. Ce ne sono tante perché il sistema sanitario nazionale dà l'essenzione... Sì, guarda, finisco subito. Il problema qual è? Io consumo dietro il consiglio della dottoressa della struttura, 126 aghi... Capito perfettamente, signor Tonino, dove sta il suo problema? E stavo dicendo che dispiace sentire queste cose, ma prendiamo atto che non solo lei, ma nella sua situazione ci sono tante altre persone. Ci rendiamo conto che non è giusto. Lo capisco che siamo tutti nelle stesse condizioni. Non è giusto che a me, una dottoressa mi ordina che devo utilizzare 126 aghi in tre mesi, me ne danno 75. Adesso non le risetta più la struttura, ma devo andare dal medico di famiglia. Purtroppo sì, ha ragione. Ha ragione, è un po' una legge fatta male, no dottoressa? Non è però un problema di cosenza questo. Il problema è che il medico mio ha avuto, dice che dietro un decreto, che me ne può segnare solo 25, ma io le posso andare a comprare io. E purtroppo è vero. Lo sanno loro quanto costano questi aghi e queste strisci. Sì, lo sappiamo. Io stamattina sono andata a protestare, per poco non mi mettevano le manette stamattina. E io non mi posso neanche otterare che ho avuto due infarti. Infatti, allora il discorso è questo, dottoressa Cloros, giustamente stava dicendo che non è una situazione nazionale. No, è una situazione nazionale. No, no, no. Chiedo scusa. Si immagini. Scuso perché non vi sento e altro il televisore. Vi ringrazio dell'ospitalità. A lei, grazie a lei. Può mettere giù comunque perché noi finiamo, poi ci sentirà nel video. Allora. Bene, grazie. Grazie, signor Torino. Tanti auguri. Buona condizione. Tanti auguri. è disposto comunque delle metodiche, diciamo, ha riservato, la nostra unità operativa, ha riservato dei posti per, diciamo, pazienti che necessitano di fare l'esame con un po' più di urgenza. In questo caso è il medico curante che predispone per la visita o per la metodica. C'è un codice sull'impegnativa, no? Esatto, esatto. Che indica? Sì, sì, sì. Al cupo sono comunque, per quanto riguarda la cardiologia, sono riservati dei posti, quindi in più rispetto al, diciamo, lo standard quotidiano delle prenotazioni, proprio per i pazienti urgenti. Per quanto riguarda il problema del diabete, questo, ripeto, è un problema nazionale, non è un problema di cosenza, assolutamente no. Che obiettivamente non è giusto. Il numero, però, il numero, ecco, bisogna dire una cosa, che il numero delle striscette che vengono distribuite ai pazienti diabetici dipende anche dal tipo di diabete, se è un diabete ben controllato, che fa solo l'ipogligemizzante orale. Che non ha necessità di essere misurato ogni giorno, no? E poi, nell'ultimo periodo, io non sono una diabetologa, però so per certo che si fa il controllo della glicemia, cosiddetto a scacchiera, vale a dire che un giorno fa la glicemia a digiuno del primo mattino, il secondo giorno fa la glicemia, misura la glicemia prima di mangiare, Il terzo giorno fa la glicemia due ore dopo i pasti e così via anche prima di cena e dopo cena, in maniera tale che con questo, diciamo, metodo si riesce a coprire la settimana e il diabetologo ha idea, si fa un'idea di come sia il controllo glicemico di quel paziente in quella settimana, quindi senza utilizzare più strisce nell'arco della giornata. Esatto, insomma, questo potrebbe essere una soluzione, no? Perché abbiamo sentito, ci sono pazienti che, intanto l'abbiamo sentito, non tutti i tipi di diabete sono uguali, ognuno ha il suo, no? Ognuno ha la sua storia. Per cui, però, quando ci sono queste situazioni, sì, come? E costano, dottoressa, queste striscette, no? Quindi io capisco il signor di prima che ci ha chiamato, perché, insomma, poi si spora e sono bei soldini da andare a pagare. Allora, forse, mettersi d'accordo, no? Possiamo consigliare anche questo con la diabetologa che segue il nostro telespettatore, fare una strategia di questo tipo e cercare in qualche maniera di tenere contenuto il consumo delle strisce. Io ho il controllo glicemico e soprattutto importante per i pazienti che fanno terapia insulinica, perché conoscendo il valore della glicemia riescono anche ad ottimizzare le unità di terapia, le unità di insulina che devono essere somministrate. Ma c'è poi un metodo molto semplice che ci permette di controllare, diciamo, l'andamento del diabete in questi pazienti, che è l'emoglobina glicosilata. Si fa un dosaggio al mese e questo valore di emoglobina glicosilata mi fa anche capire, fa capire al medico, come se il paziente è ben controllato oppure no dalla terapia che è stata prescritta. Certo. Prendendo spunto dalla telefonata del nostro telespettatore, tra l'altro era una domanda che avevo anche in animo di farle, no? Cioè le, alcune patologie cardiache, come in questo caso l'infarto, che sono correlate strettamente ad alcune malattie del sistema, malattie dismetaboliche, diciamo così, come appunto il diabete. Perché? Perché il diabete è un universo a parte, perché essere diabetici non significa avere solo la glicemia elevata, significa anche avere una serie di alterazioni metaboliche che coinvolgono soprattutto il colesterolo cosiddetto cattivo, il colesterolo LDL. I diabetici in genere, a parità di valori di colesterolo LDL rispetto a un soggetto normale, hanno delle particelle molto più piccole che si ossidano molto facilmente e che esplicano delle azioni tossiche e dannose direttamente sulla parete dei vasi. Il diabetico poi ha anche un'altra caratteristica, quella dell'iperaggregabilità piastrini, che hanno delle piastrine molto più vivaci, molto più aggressive e quindi per questa serie di motivi il diabetico può andare incontro a una serie di patologie cosiddette micro e macroangiopatiche con l'interessamento di tutto l'apparato cardiocircolatorio. Quindi insomma per questi pazienti, in questo caso abbiamo sentito per i diabetici, è importante tenere sempre ben compensata, no? Diciamo che attualmente se noi vogliamo parlare di prevenzione cardiovascolare nel paziente diabetico, oltre al controllo della glicemia, che è sicuramente fondamentale in questi pazienti, ma che incide per poco, circa il 16% nello sviluppo delle malattie cardiovascolari, la glicemia, tutto il resto è dato dal colesterolo di questi pazienti, dal colesterolo LDL. Tanto è vero, ok? Perché se noi trattiamo i pazienti con la statina, che è un farmaco che serve a far abbassare i valori di colesterolo, noi riusciamo a prevenire molto più infatti in questi pazienti che non la terapia ipoglicemizzante che mi normalizza la glicemia. Quindi mi par di capire, insomma, che il paziente diabetico, accanto ai suoi farmaci, è quasi d'obbligo prendere la statina. Sì, il diabetico viene considerato già come un paziente infartuato, anche se non ha mai avuto eventi schemici, cardiaci, nel momento in cui si fa diagnosi di diabete, deve essere già considerato un paziente che ha avuto un infarto, e quindi va trattato come tale. Ecco, insomma, spiegato tutto, perché insomma, c'è anche, ritornando al fatto delle correlazioni, no? Anche con i disturbi tiroidei. Allora sì, ci sono delle correlazioni tiroide-cuore. Tempo fa, quando ero una studente specializzanda, mi sono anche dilettata a fare dei lavori... Che metteva nel risalto questo... Esatto, sì. Mi ricordo benissimo. Dunque, intanto, gli ormoni tiroidei, il cuore ha dei recettori per gli ormoni tiroidei. Quindi, evidentemente... Lo diceva lei all'inizio. Evidentemente, evidentemente, gli ormoni tiroidei sul cuore hanno delle funzioni importanti, altrimenti non ci sarebbero i recettori. Allora, cosa succede? Che se la tiroide, diciamo, nelle patologie della tiroide che si caratterizzano per una iperfunzione, un aumento della secrezione degli ormoni tiroidei, la stimolazione eccessiva di questi recettori a livello cardiaco può facilitare la comparsa di aritmie. Tra questo la fibrillazione atriale, che, insomma, è una delle aritmie molto più frequente, no? In cardiologia. Se, invece, la tiroide funziona male, se funziona male, allora si può avere il versamento pericardico, si può avere ipocontrattilità cardiaca, cioè si può arrivare a una vera e propria forma di scompenso cardiaco. Quindi c'è una stretta correlazione tra tiroide e cuore. Certo. Poi, insomma, lo scompenso cardiaco che lei ha appena citato, è un altro disturbo, leggevo che affligge nel mondo 22 milioni di persone. Sì. Quindi è un po' detta anche il disturbo del benessere, no? No, più che del benessere, benessere, io direi che lo scompenso cardiaco è il risultato delle terapie farmacologiche che noi abbiamo fatto nei pazienti cardiopatici, nel senso che le ultime molecole che noi utilizziamo in questi pazienti, così come anche le procedure interventistiche, hanno permesso la sopravvivenza di un maggior numero di pazienti, che molto probabilmente 50 anni fa sarebbero morte, senza questi nuovi presidi. Ora è chiaro che il cardiopatico che sopravvive all'infarto, col passare degli anni può sviluppare lo scompenso cardiaco. Ecco perché lo scompenso cardiaco è diventato una patologia molto, molto, molto frequente. In Italia, un milione e cinque ce ne sono in Italia, un milione e cinquecentomila di pazienti con scompenso cardiaco. Quali sono i fattori che predispongono a questa situazione? Allora, ripeto, intanto tutte le malattie cardiovascolari, tra cui la cardiopatia ischemica, no? Di qualsiasi natura, l'infarto, la cardiopatia ischemica cronica. C'è una buona fetta di scompenso cardiaco che è legata a delle forme di cardiomiopatie cosiddette primitive, familiari. In questi casi c'è un'alterazione genetica ben precisa che è presente in molti soggetti dello stesso nucleo familiare. Ci sono delle forme di scompenso cardiaco che seguono direttamente la cardiopatia ipertensiva, quindi dall'ipertensione arteriosa si arriva direttamente allo scompenso cardiaco e c'è una forma di scompenso cardiaco che è legata alla cardiomiopatia cosiddetta diabetica. Cioè pur avendo questi pazienti diabetici, pur avendo i grossi vasi coronarici normali puliti, hanno un'alterazione del microcircolo coronarico che poi col passare degli anni provoca inizialmente l'ipertrofia e successivamente la dilatazione del ventricolo fino allo scompenso conclamato. Senta dottoressa, si può rientrare dallo scompenso? Cioè una situazione di scompenso può rientrare, può migliorare? Sì, allora c'è una fase dello scompenso cardiaco che si caratterizza per la cosiddetta disfunzione ventricolare asintomatica e lo si riscontra prevalentemente nei pazienti con la cardiopatia ipertensiva, sono dei pazienti che soffrono da molti anni di ipertensione arteriosa, nonostante facciano una buona terapia farmacologica, questi pazienti vanno incontro, ripeto, all'ipertrofia delle pareti del ventricolo e successivamente alla dilatazione. Ma in questa fase, in questa fase, i pazienti sono completamente asintomatici. Ora, se noi riusciamo a individuare il paziente in questo momento, apportando delle modifiche, diciamo, importanti per quanto riguarda la terapia farmacologica, è possibile ottenere una regressione parziale o quantomeno rallentare la progressione allo scompenso conclamato. Certo, certo. Insomma, abbiamo sentito, ci sono per alcuni disturbi, alcuni disturbi che si annunciano, no? Diciamo così, altri che sono silenti, abbiamo sentito anche nel caso di una persona che si scopre ipertesa, spesso può non avvertire nessun tipo di sintomo e magari lo scopre per gioco, perché dice, vabbè, me la misura, adesso sta pressione, vediamo, perché se la misura l'amico, la mamma, eccetera. E ci sono invece altre situazioni che magari ci fanno anche un po' paura, però spesso sentiamo dire che sono innocui, come per esempio il batticuore, il cuore che batte in maniera non proprio regolare e poi per un attimo eccesso. In quel caso di che cosa si tratta? Beh, il cardiopalmo è uno dei sintomi che porta più frequentemente il paziente a fare la visita cardiologica. In realtà ci sono una serie di aritmie, alcune per noi definite assolutamente benigna, prognosi benigna, ci sono poi altre forme di aritmia che poi richiedono dei provvedimenti particolari. Però molto spesso il patente riferisce questa sensazione di battito mancante e a volte lo riferisce in particolari circostanze. Lo stress, ad esempio, può influire. Le caratteristiche anche del sintomo ci fanno in qualche modo capire se è una forma che noi possiamo, diciamo, seguire senza particolare apprezzione oppure ci fa capire che sono delle forme aritmiche che necessitano invece di un immediato approccio sia diagnostico che terapeutico. Ecco, nel caso di un'aritmia invece più seria, no? Spesso, cioè, queste si annunciano sempre, anche in questo caso il paziente può non avvertire nulla? Purtroppo può non avvertire nulla, proprio per, diciamo, le aritmie minacciose per la vita. Sì, la posso interrompere un attimo perché abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, chi ha il telefono? Buonasera, mi chiamo Enrico, sono del Biroliano. Prego, Enrico. Io sono andato a farmi una visita al medico e mi dice che ogni tre battiti il cuore si ferma. Poi sono andato al punto di soccorso, mi hanno fatto tutte le visite e non mi hanno detto niente, mi diceva per tutto a posto. Come, la dottoressa cosa può dirmi? Sentiamo. Allora, molto probabilmente, noi lo definiamo trigeminismo, no? C'è un'extrasistole ogni due battiti e il terzo è un battito ectopico. Bisogna vedere che tipo di battito ectopico è, se è un battito che origina dal ventricolo o se è un battito che origina sopra il ventricolo, vale a dire dagli altri. Ad ogni modo, non è una condizione che desta preoccupazione immediata. Sicuramente c'è tutto il tempo per approfondire. Se si tratta di exasistole, cosiddette sopra ventricolare, in genere non facciamo nulla, osserviamo il paziente, magari programmiamo degli alter, vale a dire degli elettrocardiogrammi che durano, una registrazione che dura 24 ore, ma giusto per capire la qualità e la quantità dell'extrasistole. Se poi sono delle exasistole, cosiddette ventricolari, in tal caso, anche qui si procede sempre con un alter e dopo l'alter, a seconda del risultato, si procede con degli esami di secondo livello. Quindi nel caso del nostro amico telespettatore, ecco, perché lui, adesso io l'immaggio a lei sarà, signor Luigi, lei sarà un po' disorientato, no? Perché dice, lì mi hanno detto che ogni tre battiti il mio cuore si ferma e poi in pronto soccorso mi hanno detto stai tranquillo che è tutto bene. Allora, in questo caso, i passi che dovrà fare il signor Luigi per star tranquillo, no? Quali sono? Il primo esame che consiglierei è l'alter, questa registrazione elettrocardiografica per 24 ore, sicuramente l'esame di elezione. Signor Luigi, chiaro? C'è ancora? C'è ancora? No, vabbè, ci sentirà comunque dal video. Allora, come consigliare la dottoressa Cloro, potrebbe, ma sicuramente anche, che se ritornerà dal suo medico glielo consiglierà, quindi di mettere questo alter, che è un bracciale che si mette intorno al braccio, appunto, che registra e quindi poi sono degli elettrocardiogrammi nelle 24 ore. Quindi questo potrebbe già dare, no? un primo quadro della situazione e potrebbe, giustamente, consentirà al medico di... programmare altri esami se ci fosse la necessità. Se c'è necessità, se era avvisa la necessità, di programmare altre indagini oppure di dire, ok, teniamoci ogni tanto sotto controllo. Bene, allora amici, eh sì, non cambiate il canale perché c'è adesso un po' di pubblicità ma proprio poca poca. Ritorniamo subito dopo per la seconda parte con la dottoressa Cloro. Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati amici, siamo in diretta con la dottoressa Mimma Cloro stiamo parlando di cuore. Allora, abbiamo già sentito anche i due nostri telespettatori che ci hanno dato lo spunto anche per, così allargare il raggio della discussione e prima che ci interrompessimo per la pubblicità stavamo parlando di queste situazioni, no? Quando sentiamo un po' il nostro cuore che batte in maniera un po' anomala oppure più veloce oppure quando anche quella sensazione quando ci sente il cuore in gola, no? Che poi un attimo poi passa. Ecco, quella è anche da ascrivere ad una di queste sì, sicuramente il cuore in gola è legato a un ecstasyste, no? Sono dell'ecstasyste. Poi bisogna vedere quanto è duraturo il disturbo, quante volte si presenta nell'arco della giornata. Certo, certo. Insomma, poi ognuno, no? Saprà fare una distinzione. Per esempio, no? le chiedevo anche questo perché molte non so se adesso è un mito da sfatare questo, molte persone facevano una creavano una relazione per esempio tra il caffè e questo tipo di disturbo di lieve disturbo diciamo così. Può essere vero? Sì, può essere vero perché la caffeina contenuta nel caffè è una xantina metilata che ha degli effetti eccitatori sull'apparato cardiovascolare. Il problema poi dipende dalla capacità dell'individuo di metabolizzare la caffeina. Ci sono una serie di enzimi a livello epatico e una serie di polimorfismi vale a dire di variazioni di varianti genetiche per cui ci sono dei soggetti che sono dei grandi metabolizzatori di caffeina quindi possono bere tante tazze di caffè senza avere alcun disturbo di tipo eccitatorio. Ci sono invece pazienti a causa del polimorfismo genetico che non metabolizzano come dovrebbero la caffeina e quindi hanno tutti gli effetti eccitatori della caffeina sull'apparato cardiovascolare tra cui la tachicardia a volte il tremore delle mani l'insonnia e tanti altri sintomi di accompagnamento. Ecco insomma per non parlare del fumo va beh lo sentiamo lo sappiamo molto bene e anche dell'alcol sì l'alcol ha preso cioè assunto in quantità moderate io come alcol mi riferisco al vino preso in quantità moderate esprica degli effetti protettivi sull'apparato cardiovascolare perché contiene una serie di sostanze polifenoli delle sostanze antiossidanti che hanno effetti protettivi sull'apparato cardiovascolare quindi il classico bicchiere quindi famosi due bicchieri di vino esatto uno a pranzo e uno a cena va benissimo è chiaro che quando si assume alcol in quantità esagerate ad esempio 80 grammi nell'arco delle 24 ore che poi corrisponde a un litro di vino e lì poi ci sono effetti dannosi su tutti gli organi riprendiamo da qua dopo la tecata pronto buonasera chi parla buonasera volevo provare un'obesità alla dottoressa prego io sono affetto da obesità di grado notevole c'è un menzionomia elevata e diciamo il colisterolo leggermente elevato rispetto però c'è un lacido unico anche abbastanza elevato volevo chiedere se posso considerare un miracolato tutto questo è un miracolato perché probabilmente ancora non ha avuto un evento non ha avuto problemi di natura e quanti anni ha mi scusi 65 70 o 65 6 6 per il momento è stato fortunato non so se lo sarà nei prossimi anni perché il paziente vi sembra essere affetto da questa obesità importante quindi da una sindrome metabolica iperinsulinemia vale a dire un'eccessiva secrezione di insulina che l'organismo cerca di produrre in quantità eccessive per mantenere uno stato di normoglicemia iperuricemia che è un altro fattore che si associa all'obesità però prende le statine eh bene o male perché forse per quello c'ha una lieve ipercolesterolemia ha detto sicuramente è arrivato sia a 65 anni no no non assumo non assume nulla assumo solo farmaci contro la pressione diciamo ah prende solo per l'ipertensione quindi anche iperteso quindi ha iperteso ipercolesterolemico iperinsulinemico iperuricemico e quindi ha tutti i fattori e iper e che dobbiamo fare? deve assolutamente dimagrire capito? deve assolutamente dimagrire cioè non si possono utilizzare dei farmaci per trattare l'ipertensione per trattare la colesterolemia per trattare l'iperuricemia il primo passo è quello del dimagramento poi se uno non ci riesce adesso abbiamo tante diciamo possibilità per per dimagrire quindi cioè non è che un obeso è abbandonato a se stesso perché dice obeso purtroppo non possiamo fare più nulla no in realtà i rimedi ci sono lei si sente un rinunciatario al dimagrimento cioè ci ha rinunciato sì si ho provato ma non non ci ha provato bene probabilmente sicuramente però noi abbiamo fatto nell'arco delle nostre trasmissioni abbiamo dedicato un po' di tempo fa una bella puntata proprio su questa tematica e giusto glielo voglio ricordare perché le può ritornare utile sapere che presso l'ospedale della nostra città quindi presso l'azienda ospedale di Cosenza c'è uno staff che poi sono tutti quelli della chirurgia bariatrica dove possono veramente con nutrizionisti psicologi eccetera che possono veramente essere d'aiuto ora non dico che lei deve arrivare all'intervento chirurgico no anche perché non sappiamo le condizioni però potrebbe essere un approccio che lei potrebbe avere così da smuoverlo un po' da prendere questi consigli e perché no perché veramente guardi vabbè c'è tutta la linea ma tanto ci ascolta e quello che diceva anche la dottoressa Cloro è molto importante cioè possiamo prendere come il caso di questo signore dei farmaci per quello 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 e quell'altro perché in questo caso basterebbe solo perdere peso e tutte le altre e queste patologie che sono tutte un po' lì sul limite no potrebbero veramente avere un calo notevole quindi basterebbe già dimagrire in questi casi certo allora cosa ah cosa stavamo dicendo prima della cosa che io ho detto riprendiamo ah sull'alcol stavamo dicendo gli effetti perché ancora io ho un sacco di domande per lei dottoressa quindi dobbiamo sono qui per questo allora si dicevamo poi l'alcol se diventa una bottiglia al giorno non va più bene non va più bene perché intanto perché esplica degli effetti tossici diretti sul fegato e quindi poi il risultato finale l'epatita alcolica che poi sfoggia nella cirrosi e nel cancro cirrosi ma l'alcol esplica effetti tossici anche sul cuore perché può provocare una dilatazione importante del ventricolo e quindi arrivare a delle forme molto severe di scompenso cardiaco per cui questi pazienti che purtroppo abusano di alcol in realtà poi fanno hanno una qualità di vita veramente veramente scadente soprattutto quando compare lo scompenso cardiaco certo quindi insomma lo ricordiamo per l'uomini vanno bene i due bicchieri anche tre al giorno ai pasti diciamo ai pasti per la donna un po' meno per la donna un po' meno a proposito di donna il cuore delle donne non solo delle donne innamorate il cuore in generale e per quanto riguarda la salute del cuore delle donne c'ha delle differenze anche di patologie rispetto all'uomo mi spiego meglio alcune patologie possono interessare più il gentil sesso piuttosto che gli uomini c'è anche questa situazione in realtà sulle patologie cardiache ci sono delle differenze sostanziali tra uomo e donna per alcune patologie intanto anatomicamente è diverso da quello dell'uomo perché è molto più piccolo perché ha le coronarie molto più piccole ha delle coronarie che facilmente le coronarie delle donne facilmente si possono rompere in più frequentemente le donne sono più ipertese degli uomini e quindi le donne possono andare incontro a uno scompenso cardiaco a funzione sistolica diciamo conservata mentre per quanto riguarda la cardiopatia ischemica la donna si ammala di cardiopatia ischemica così come si ammala l'uomo sono diversi tempi perché fino a un certo periodo la donna è protetta dagli estrogeni quindi poi a dieci anni dalla comparsa della menopausa la donna assume le stesse caratteristiche dell'uomo e quindi può farsi un infarto può farsi l'angina così come lo fa l'uomo ma c'è una differenza molto importante tra la donna infartuata e l'uomo infartuato perché la donna infartuata poi alla fine muore molto di più dell'uomo siamo un po' sfigate in quello siamo fortunate fin da un certo punto però poi addirittura a dieci anni dalla menopausa la prevalenza di cardiopatia ischemica raggiunge quella dell'uomo e la mortalità è superiore nella donna rispetto all'uomo ecco quindi insomma è chiaro no? la donna fino a in età fertile è protetta da questi ormoni e dopo a dieci anni dalla menopausa questo non avviene più invece gli uomini questi ormoni ce l'hanno sempre sembrerebbe di sì ma è descritta anche un'andropausa per gli uomini ecco bene sì c'è anche l'andropausa e allora io dico che anche in questi casi mi piace ritornarci e mi piace sottolinearlo ancora una volta l'importanza di seguire alcune semplici regole comportamentali certo in tutti su tutti i lavori che riguardano tutte le pubblicazioni gli studi clinici che riguardano la cardiopatia ischemica quindi mi riferisco in modo particolare all'infarto uno dei il momento più importante della terapia di questi pazienti è la modifica dello stile di vita e questo c'è da tutte le parti solo che nella pratica quotidiana questo non lo facciamo mai perché intanto perché noi medici probabilmente non abbiamo non abbiamo tempo perché dobbiamo vedere tanti pazienti e invece dovremmo stare lì dieci minuti in più con il paziente a informarlo a informarlo e dire quali sono i benefici che lui potrebbe ottenere se dimagrisce se mangia in una certa maniera se elimina i grassi se elimina gli zuccheri semplici se smette di fumare se smette di bere se i benefici che può avere anche l'attività fisica una semplice passeggiata ad esempio perché adesso attività fisica tutti quanti ne facciamo poco persino i nostri figli che sono giovani fanno poca attività fisica quindi se avessimo un po' di pazienza e del tempo in più per stare lì col paziente parlare di tutte queste cose probabilmente riusciremmo ad ottenere molti più risultati che non con la semplice prescrizione della classica pastiglia è vero io non posso che essere d'accordo con lei perché poi soprattutto i medici ospedalieri noi ci rendiamo conto che c'è veramente una corsa contro il tempo perché c'è tanto da fare ci sono poi voi avete anche le consulenze quindi venite chiamati anche magari in momenti in cui potreste dedicarvi ad attività del genere magari siete presiduti però è verissimo quello che dice la dottoressa Cloro perché si è più semplice più veloce prescrivere una pillola tanto però veramente seguendo queste regole che abbiamo detto poi non soltanto per la salute del cuore noi nell'arco delle nostre trasmissioni qua l'abbiamo detto e stradetto per tante altre cose perché poi la prevenzione sia primaria che secondaria è quella che sia poi va bene per tantissimi per il benessere in generale per tanti altri tipi di disturbi no? quindi anche in questo caso dice vabbè ma ad un cardiopatico gli facciamo fare attività sì? perché qualcuno dice ma come insomma un cardiopatico certamente non gli farò fare uno sport non gli farò fare i centometri quello sicuramente no però noi consigliamo vivamente l'attività fisica al cardiopatico persino i pazienti con scompenso cardiaco devono fare attività fisiche intesa come ecco una semplice passeggiata una passeggiata a passo sostenuto che fa bene per tante cose e quindi insomma questo camminare camminare senta sì poi abbiamo detto eliminare alcune abitudini no? dannose come abbiamo sentito l'alcol come abbiamo sentito il fumo a proposito del fumo molte persone io ormai di opinione pubblica lo sappiamo un po' tutti lo vediamo anche sui social lo vediamo quando camminiamo magari chi ha il tempo di farsi una bella passeggiata all'aria aperta si vedono anche molti giovani fare uso di queste sigarette elettroniche che diciamo la verità c'è un po' di confusione su queste sigarette elettroniche perché magari dice vabbè ok io abbandono le sigarette e fumo la sigaretta elettronica penso no? che c'è veramente un incremento un uso anche tra i giovani sì io credo che presto il ministero della salute adotterà dei provvedimenti anche per per quanto riguarda la sigaretta elettronica perché è vero non ci sono nella sigaretta elettronica i prodotti di combustione del tabacco né la nicotina però è anche vero ed è molto recente uno studio che è stato svolto dall'università di New York proprio sulla sigaretta elettronica è venuto fuori che la sigaretta elettronica è dannosa quanto la sigaretta di tabacco perché intanto il fumo arriva nell'apparato respiratorio con delle temperature addirittura superiori a quello della sigaretta e quindi processi infiammatori persino la cheratinizzazione della mucosa dell'albero bronchiale quindi può dare neoplasia così come lo può dare come lo può dare la sigaretta e leggevo pure su questo su questo lavoro che può dare la sigaretta elettronica proprio a causa anche delle sostanze chimiche perché ci sono e poi ce ne sono tantissime tantissime delle sostanze chimiche lì dentro addirittura possono provocare problemi vescicali problemi intestinali quindi noi abbiamo ancora un grosso punto interrogativo sulla sigaretta elettronica però di certo sappiamo che è altrettanto dannosa quanto la sigaretta di tabacco ecco quindi mi piaceva se uno deve smettere deve smettere punto deve decidere di smettere e basta sì sì e poi insomma ritornando siamo quasi in chiusura quindi lei diceva i buoni consigli che spesso noi medici non abbiamo tempo di soffermarci su questi aspetti benefici delle regole per esempio che possono essere appunto abbiamo sentito l'attività fisica piuttosto che l'alimentazione no e sulle vitamine si sente tanto dire la vitamina D la vitamina K si sulle vitamine non abbiamo per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare non abbiamo delle evidenze di alcune che magari hanno effetti positivi sul cuore altre meno di certo ci sono delle vitamine che servono al nostro organismo e che sono essenziali e che dobbiamo introdurre con l'alimentazione perché il nostro organismo non è capace di produrre c'è stato molti anni fa un lavoro il cosiddetto studio OP che praticamente ha utilizzato un farmaco un acinibitore il ramipril associato alla cosiddetta vitamina E che si sa svolge degli effetti antiossidanti ora in questo studio al di là degli effetti positivi che ha svolto la molecola farmacologica per quanto riguarda il sottoprogetto della vitamina E non ha dato nessun risultato perché poi alla fine si è scoperto che questa vitamina non viene assorbita a livello intestinale quindi tutti quei prodotti da banco antiossidante non servono a nulla perché non sono assorbiti dall'intestino e quindi o comunque bisognerebbe assumerne dosi da cavallo per ottenere un piccolo effetto insomma tutti questi integratori vitaminici insomma io mi par di capire facciamo una dieta equilibrata variegata perché noi dall'alimentazione prendiamo tutto esatto quindi insomma la nostra dieta non è una dieta povera forse diciamo le popolazioni del terzo mondo hanno bisogno di fare di assumere degli integratori perché fanno delle diete estremamente povere e con pochissimi alimenti ma la dieta dei paesi occidentali o comunque la dieta mediterranea la nostra e sarebbe meglio si chiamasse dieta del sud sì oppure dieta perché il Mediterraneo è tutto in realtà e anche l'Egitto e anche se vogliamo essere proprio precisi precisi è la dieta calabrese la dieta calabrese perché non del sud Italia la dieta mediterranea è stata scoperta a Nicottera che è un paese della costa tirrenica calabrese e a Nicottera ci fu dovremmo proporci per cambiare questa cosa non ci piace più dieta mediterranea sì non so se gli altri saranno d'accordo però va bene allora grazie alla dottoressa Mimma Cloro è stato un piacere averla in studio e ringrazio voi amici che ci seguite sempre con tanta simpatia l'appuntamento è a venerdì prossimo buona serata cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app